E' presente questa mattina a Stoccarda anche l'assessore all'agricoltura della regione Lombardia Gianni Fava, sentiamolo. Intanto questa è una novità assoluta che va salutata dal mio punto di vista con un grande entusiasmo e di interesse che per la prima volta dopo 25 anni di storia di questa istituzione i temi dell'agricoltura, dell'ago alimentare, della tutela dei prodotti agricoli entrano a far parte dell'agenda insieme ad altre attività che sono state svolte, come la partecipazione civile, la cultura, tra le reti d'impresa, le aggregazioni strategiche, appunto dicevo il tema che l'agricoltura torni a rivestire un ruolo centrale nel dibattito fra i quattro motori d'Europa per noi è una novità di assoluto rilievo che va salutata con la giusta attenzione. Il Presidente si è fatto carico di parlare di Expo, di parlare di alimentazione, di parlare di agricoltura, di parlare di quella che per noi è una filiera che riteniamo essere una filiera d'eccellenza. E questo sarà portato poi in tavolo europeo? E questo necessariamente dovrà andare alla fine del lavoro, ritengo, alla fine dell'anno di lavoro che ci aspetta, dovrà diventare patrimonio di tutti e dovrà diventare soprattutto elemento centrale nel dibattito che ci contraddistingue anche nei confronti dell'Unione Europea. Troppo a lungo l'agricoltura del Nord, l'agricoltura lombarda in particolare, hanno subito l'Unione Europea. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che l'Unione Europea diventi uno strumento utile, non un inutile appesantimento.